Una bra bianca e una folla immensa, stretta attorno ad essa, ai funerali del piccolo Aaron, celebrati nella mattinata di martedì 31 agosto nella chiesa di Sant'Antonio Abate, piazza Stampaglia a Torino. Il piccolo Aaron, 4 anni, è deceduto una settimana fa in seguito al crollo della palazzina avvenuto in sala da Bramfame. Una tragedia che ha lasciato tutti attoniti. In città è stato proclamato lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta. Presente all'ultimo saluto anche il sindaco Chiara Appendino, che ha portato un mazzo di fiori in omaggio al piccolo. Commossa la mamma di Aaron, rimasta anch'essa ferita nell'incidente, ora in via di guarigione.